Musica Poi di vente a pari ragazzi, qua Vax lo giumicato, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi su un nuovo video E ragazzi è un nuovo video stra speciale, perchè come potete ben vedere sono usciti i team of the season, oddio E quindi ho detto, eh no, eh no, eh no, noi ci dobbiamo fare un video E ho appena notato che hanno messo anche dei pacchetti magici, quindi siamo anche abbastanza contenti E però prima di iniziare volevo appunto dirvi di passare la FIFA con se siete interessati a comprare quelli di FIFA E dirvi un'altra cosa, ragazzi non so se vedete i crediti là in alto Sono riuscito a fare già un po' di complementi, infatti magari o a fine di questo video oppure in un video di domani Vi dirò cosa fare durante questi, appunto durante l'uscita di questo team of the season Però io voglio trovare in questo episodio, in questo mio pack covering, un team of the season Quindi rischiamo addirittura di andarli a spendere tutti Comunque detto questo partiamo col primo pacchetto e come sempre fa sempre schifo Quindi, eh no, appunto collegandomi a ciò che ho detto prima, dato che voglio trovarne uno andrò anche stra abbastanza veloce Quindi sdrogo, e siamo partiti col primo pacchetto e non abbiamo trovato niente Ragazzi no, un'altra cosa, mi raccomando lasciate un bel mi piace Ah no, abbiamo solo dieci pacchetti disponibili Va bene, lasciate un bel mi piace così proprio per farmi trovare qualcuno Eh no, eh sì invece, scusate E andiamo con il secondo pacchetto Secondo pacchetto, vediamo un po' chi troviamo Saltiamo Viaggia un team of the season Cigarini e Jones, oh mio dio Poi basta Dirzo Paglietto Dai, dai, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi Dai E hopla Oh, c'è via l'onso, va bene Va bene, dai Not bad Col naso Quarto pacchetto lo si andrà al più col naso Madonna, è spettacolare la grafica di questi pacchetti E l'abbiamo aperto col naso, oh mio dio Dai, dai No, ho sbagliato Oh, non mi funziona il naso No, che schifo Dai, ultimo decision Dai un tots Dai un tots No, no, nera blu, nera blu Ma che schifo Ragazzi Sì, sì Sento puzza di fortuna La sento ancora? Oh mio dio Vediamo Dai Mannaggia, oh che schifo Questo è buono? L'ho sentito Oddio Palau Potente a Palau Mamma mia che scandalo Ben ultimo pacchetto i quali speciali Oh no Allora In 135 mila crediti È impossibile Non trovare un giocatore Minimo Di 4 mila crediti Minimo Dai Dai Addio Addio L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Sterling in forma E andiamo Sterling in forma Va bene E andiamo così Oh Basta Devo fare il bordo E andiamo Mamma mia Dai va bene A casa mia si dice Non c'è uno senza due Quindi anche quasi Oh Un team of the season Abbiamo trovato Pur in forma Io voglio Un team of the season Dai Come prima Come prima Con gli occhiali siamo illegali Con gli occhiali siamo illegali E dobbiamo trovare qualcuno In questo pacchetto Ehi La Con due occhiali Siamo peggio dell'illegalità Peggio Dai Dai qualcuno Oddio Che schifo No ragazzi Con tre Con tre non esiste Con tre non esiste Dai Oddio Questo l'anno scorso c'era Dai che mi si stanno incrociando gli occhi Dove sono i miei occhi Qui Qui O qui Stiamo registrando da 20 minuti Non abbiamo trovato altro che Sterling Giff Non male Non ho ancora contato il suo pezzo Ma per me ci sta perdendo alla grande Con questo nuovo pacchetto Non troviamo come al solito niente E ci sentiamo al prossimo Oh è la settima volta che lo troverò questo giocatore Settima Dai Vidal Dai Vidal 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 Oh mio dio Questo è buono Si sente Si sente che è buono Si sente che è buono Anche se sto guardando La webcam ma fa niente Perché noi troviamo Eeeh Oh un'altra in forma Un'altra in forma Spice Spice Andiamo E abbiamo trovato un'altra in forma Oddio Oddio Però non ancora Team of the season Ma fa niente Maggioremente numero 2 300.000 crediti E pass aperti Due in forma Di cui uno vale all'incirca 10.000 E l'altro Mi vede un po' di più Ed ecco Oh Bello questo Oh si Oh si Oddio Oh si Va bene Madonna Meno male Oh finalmente Non troviamo più niente Un bel po' Oh si E andiamo E andiamo Eeeh Ragazzi Questo è uno degli ultimi pacchetti Eh si Dai oh Dai oh Ah Lach Oddio No Mannaggia Ieri era Man of the match Madonna Ieri era Man of the match Arriviamo fino a 400.000 Che poi Magari il resto dei crediti Li tengo per farvi un bel pink palozzo Quindi scrivete nei commenti Di chi volete il pink palo E mi raccomando Lasciate un bel mi piace Intanto Madonna Mmm Ultimo pacchetto ragazzi Abbiamo aperto All'incirca Forse no Perché Adesso Per l'ultimo pacchetto Io voglio che voi tutti Battiate due volte le mani Le voglio sentire E poi Andiamo Ad aprire Col naso Questo Pacchetto Abbiamo trovato pure uno che si chiama Palus Palau No palau Oh abbiamo trovato uno che si chiama Palau Non possiamo Non trovare di poter essere Nell'ultimo pacchetto Invece no In quest'altro ultimo Oddio Vabbè Però non posso aprire Anche perché Non ho più spazio sul pc Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Però abbiamo entrato due in forma Dai niente male Vi ricordo di iscrivervi Di mettere un bel mi piace Se non l'avete ancora fatto Ultimissima cosa Scrivetemi nei commenti Chi vorreste Io Pink Palazzo Io pensavo a Cerci E appunto Team of the Season Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Detto questo Vi saluto Vi dico Padenda Palazzo Dal prossimo video Bolla Grazie a tutti Grazie a tutti